Il sistema perturbato interessa e continua a interessare un po' tutte le nostre zone nelle prossime ore, quindi con un ulteriore peggioramento purtroppo per la prima parte di questo fine settimana, infatti su Venezia ma su tutto il veneziano prevediamo per domani inizialmente una nuvolosità compatta senza fenomeni, anche in tarda mattinata invece poi inizieremo ad avere dei fenomeni a metà giornata con precipitazioni che si intensificheranno quindi potranno avere in alcune zone anche carattere temporalesco, il miglioramento avrà tarda serata e poi per domenica inizialmente una nuvolosità irregolare, un residuo e poi velocemente addirittura dovremo andare verso un cielo sereno, quindi un netto miglioramento. Con questa situazione avremo un riassestamento delle temperature verso il basso, soprattutto nei valori massimi, in quanto i valori minimi verranno gli stessi, quindi intorno ai 10-11 gradi, quindi anche abbastanza buoni, poi i valori massimi però non supereranno i 15-16 gradi. Il vento, ecco un'altra nota dolente, purtroppo i venti sono deboli e moderati dai guadrati orientali, però per sabato, per la seconda parte di sabato potremmo avere anche una intensificazione dell'intensità del vento che potrebbe arrivare anche a 60-70 km orari temporaneamente, per finire la nota viatrica naturalmente è mosso, molto mosso, attività con un muo tondoso, poi per sabato nella seconda parte un muo tondoso in ulteriore aumento.